allora no perché c'è mi vien da ridere perché qui siamo ai limiti della presa in giro mi sto riferendo ad arom ramsey ieri giocato con la bilorussia 71 minuti sommati i 170 delle precedenti due partite fanno chiudere la macchina meglio ok fanno la mia dimestichezza con la rimetica è fantastica 240 minuti ok nell'ultima tre partite ha giocato 240 minuti nella juventus hanno giocato 112 in cinque partite ma 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 il dato che va ad aggiungersi è che nella precedente sosta aveva fatto un gol e un assist in questa qua ha fatto un assist in una partita sola e due gol si dirà vabbè con la bielorussia cosa vuol dire ramsey ha giocato anche contro formazioni deboli in italia o comunque molto alla portata ragazzi fa riflettere sta roba cioè arriva la juve risentimento muscolare problemino non se la sente non scende in campo quindi gioca anche poco va in galles dice qua sto bene sono a casa mia sanno come prendermi sanno come trattarmi e poi lo dimostra sul campo però giocando e segnando guardate che allora secondo me in questo momento qui lui lo posso dire sta godendo come un riccio come l'espressione che si usa normalmente no sta godendo come un riccio perché trova sul campo conferma di tutto quello che dice cioè la cerca e la trova metteteci pure una componente di fortuna metteteci pure una componente di coincidenza però è un dato che fa riflettere questo allora un pochino un pochino il dubbio che non abbia tutti i torti viene perché se ogni volta gioca oltretutto segna ma questo è un di più però è da considerare ma gioca gioca con continuità poi è vero le partite della nazionale sono distanziate un mese l'una dall'altra in questo periodo quindi è qui forse la componente fortunata cioè quando va in nazionale il periodo che sta bene torna in italia comincia ad allenarsi e gli succede qualche cosa poi lasciate stare il discorso della fiducia che ormai è andata perché è ovvio che se un giocatore va là e spara contro la juve indirettamente senza mai citarla ma fa capire che la juve si sbagliano con lui sbagliano tutto non sbagliano come gestirlo e invece nel galles sanno sanno come prendere a romranse è ovvio che la juve si incazza no mi sembra molto naturale ed è chiaro che se lui ha giocato poco lo ripeto ancora una volta non è dovuto solo a scelte tecniche o precauzionali sulle sue condizioni fisiche per preservarlo da eventuali perché no e chiaramente c'è un input questo spara lo fai scendere in campo solamente quando devi raschiare il fondo del barile visto che oltretutto è sotto contratto e quindi comunque non è da accantonare e da mettere fuori rosa ci mancherebbe altro però facciamogli capire chi comanda il problema è che appena va fuori dalla juve comanda lui i dati sono questi ragazzi non ci si scappa quindi ripeto secondo me che si possa insinuare un piccolo dubbio e dico piccolo per stare contenuto è prudente un piccolo dubbio che possa avere anche ragione quando dice certe cose cioè che evidentemente i sistemi di allenamento magari sono diversi che ha bisogno di sentirsi importante per un progetto lui è capitano del galles tra l'altro quindi che abbia bisogno di sentirsi importante per un progetto eccetera quindi componente fisica componente psicologica che trova in galles e non trova qua lui tra l'altro è il sesto giocatore della storia del galles l'ha segnato almeno 20 gol in nazionale quei due di ieri alla bielorussia ha segnato 20 gol in nazionale che non è poco non è un attaccante non è poco eh ragazzi non è poco so che queste mie parole non porteranno a nulla perché galles eh sì galles ma no no il ramsey lascerà la juve quasi certamente già a gennaio con la formula di fissione con altre formule ma ormai il rapporto è chiaramente incrinato se non addirittura rotto però insomma volevo condividere con voi questa riflessione mettiamoci anche che ha segnato pure rabbio con la francia è vero che la francia ha dato 8 al kazakhistan per carità anche lì partita semplice nel novero delle possibilità ci sta che potesse segnare addirittura anche il portiere se dai 8 gol ad una formazione tra l'altro insomma di basso livello e quindi nel novero della statistica ci sta che anche il rabbio segni però va la segna della juve gioca 11 partite 748 49 minuti 49 se non vado in rato minuti ha tirato in porta sia no 3 4 volte in tutte queste partite e non ha segnato la tira segna tra l'altro io avevo proprio ieri fatto un servizio su loro due su questi due giocatori accomunati da diverse come le inizie diverse situazioni come le iniziali l'anno di arrivo il costo zero l'ingaggio eccetera ricordando che erano accomunati anche dal fatto che avrebbero giocato entrambi alla sera insomma io ho tirato una volata pazzesca perché tutti e due hanno giocato e segnato anche rabbio rimane sul mercato se dovesse arrivare una buona offerta giù a gennaio già rabbio seguirebbe il destino di di ramsey e questo ci permette di aprire una finestrella finale sulle ultime indiscrezioni che arrivano non mi stupisce quella relativa romagnoli del milan perché già con raio l'avevano parlato di romagnoli i dirigenti della juve la scorsa estate e già il gennaio passato quindi sono già è la terza sessione di mercato in cui la juve parla con raio la di romagnoli per un discorso di ringiovanimento anche nel settore dei difensori centrali mi torna nuova quindi questa ve la posso confermare mi torna nuova mi torna nuovo questo possibile inserimento della juve nella trattativa o quantomeno nel rinnovo del contratto di ospina cioè nel senso che ospina è in scadenza non si sa se rinnoverà il contratto con napoli che la juve sia interessata a ospina questo non fa altro che confermare l'idea che la juve vuole rinnovarsi anche lì non farebbe altro che confermare che la juve vuole rinnovarsi anche lì e quindi fallito l'obiettivo donnarumma l'anno scorso e vi ho già spiegato il motivo perché sostanzialmente la società non è riuscita a vendere cesni alle condizioni che voleva adesso proverebbe con un altro costo zero vale a dire ospina ma resta il discorso legato a cesni chiaro che se ti interessi a ospina è il secondo anno consecutivo che il tuo interesse per cesni è scemato no che la tua volontà di trattenere cesni cala però qui naturalmente cerco conferme e ne parlerò per il momento mi fermo qua mi viene in mente siccome ieri ho citato frankie stai junior no quello che si potrebbe di ramsey mi viene in mente fantozzi nel primo fantozzi alla fine quando si accorge che praticamente non è vero che lo facevano lavorare perché loro sono buoni e allora dice ma allora mi avete sempre preso per il culo ecco quindi più o meno con ramsey si può fare la stessa considerazione con questa citazione fantoziana io vi lascio vi do appuntamento questa sera iscrivetevi al canale ciao